Musica Weeey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi volevo un attimo farvi perdere due minuti perché è appena uscita una news interessantissima su Fortnite ragazzi. Basta andare nella sezione notizie, pront, nuova granata congelante in arrivo prestissimo, vorrebbe dire con la patch 7.3. Dai i brividi ai tuoi avversari con questa chicca invernale. Di nuovo ragazzi un oggetto inerente, l'inverno, il ghiaccio, il freddo, probabilmente questa granata che effetto avrà? Ditemelo voi qua nei commenti, cosa pensate che faccia? Questa granata congela davvero un nemico o crea magari una base ghiacciata in modo da farlo scivolare? Secondo me è la seconda ma voglio sapere cosa ne dite voi. Tra l'altro ragazzi attenzione perché nelle notizie arriva anche la notizia che il pacchetto principianti percussore sommitale verrà ritirato dal negozio dopo il 29 gennaio. Quindi ragazzi ancora un giorno per ottenere l'ex starter pack con dentro 600 V-Bucks. Beh ragazzi vi ricordo i vostri commenti qua sotto, fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto. Ciao!